Cala il numero complessivo di infortuni sui luoghi di lavoro, ma aumentano i casi mortali verificatisi soprattutto in provincia di Terni e nel comparto agricolo, mentre crescono anche le denunce di malattie professionali. Gli ultimi dati elaborati dall'INAIL relativi al confronto tra 2023 e 2022, pur non evidenziando particolari criticità regionali, confermano anche in Umbria l'assoluta priorità del tema della sicurezza sul lavoro. Si focalizzano sulla fase di indagine e di accertamento delle responsabilità ai protocolli siglati stamattina da USL Umbria 1 e Procura della Repubblica di Perugia. Abbiamo regolamentato tutto l'iter di interventi perché soprattutto nella fase iniziale, soprattutto degli infortuni sul lavoro, che è fondamentale la tecnica di accertamento e le modalità. Quindi abbiamo voluto regolamentare in modo preciso questi interventi in modo da rendere più efficiente e più efficace l'azione di penale di responsabilità. A svolgere l'azione di polizia giudiziaria nei casi di infortuni sul lavoro sono i funzionari dell'ASL. L'infortunio è un momento molto delicato, nell'accertamento delle prime ore in cui intervengono tante figure. Deve esserci un'armonia di azione perché la delicatezza proprio del momento è tale che anche l'acquisizione delle prove, la messa in sicurezza dei sistemi, quindi diventa un elemento importante. Resta alta l'allerta sui cantieri, in particolare quegli edili, spesso meta di sopralluoghi per prevenire incidenti, a preoccupare l'occesso di subappalti segnalato come fattore di rischio. Quanto più tu cerchi di ridurre i costi, tanto più incidi su quelli che possono essere gli strumenti di prevenzione. Quindi sicuramente questi meccanismi sono meccanismi pericolosi.